Come mantenere o migliorare il rispetto di sé in un rapporto interpersonale? Oggi ne parliamo insieme. Resta con me. Ciao, sono Giusy, sono un'educatrice professionale e vi do il benvenuto sul mio canale. Oggi continuiamo a parlare di relazioni. Ho fatto molti altri video su questo argomento. Se te li sei persi, non ti preoccupare perché te li lascio in descrizione qui sotto. Troverai tutti i link utili per te. Oggi ci concentreremo su cosa fare, come comportarci, quali sono le strategie da attuare in un rapporto interpersonale quando la mia priorità è il rispetto di me. Però, attenzione, ti ricordo che non è sempre così. A volte la mia priorità in quella relazione non è il rispetto di me, ma può essere, ad esempio, il mio obiettivo in quella relazione o mantenere la qualità stessa di quella relazione. Ne parlo in questo video, che è uno di quei video che ti ho detto che troverai in descrizione. Quindi entriamo subito nell'argomento perché ci tengo veramente a passarti questi quattro concetti. Allora, prima di tutto la domanda che mi devo fare è, alla fine di questa interazione, alla fine di questa discussione, alla fine di questa conversazione, come voglio sentirmi con me stesso? Cosa voglio pensare di me stesso? Che cosa devo fare per sentirmi in quel modo che desidero con me stesso? Cosa può funzionare? Il primo consiglio è, segui i tuoi valori. Se l'importante per te in quel momento, in quella relazione, è mantenere il rispetto di te, tu devi portare in quella relazione i tuoi valori. Come fai a portarli? Prima di tutto li devi sapere bene tu. Devi chiarirteli tu, prima di tutto, i tuoi valori. Cosa per te è importante? Qual è la tua opinione rispetto a un determinato argomento? Cos'è che vuoi ottenere da quella relazione rispetto ai tuoi valori, alla tua etica, alla tua morale? Cos'è importante per te? Cosa vuoi per te stesso? Ecco, se vuoi portarlo nella relazione e se vuoi farlo capire all'altro, prima di tutto devi chiarirlo a te stessa o a te stesso. Quindi, segui i tuoi valori, chiarisciteli, rendeli abbastanza concreti, egoggettivi, comunicabili all'altro, comprensibili dell'altro, perché poi se li devi portare nella discussione non devono essere qualcosa di astratto, di vago, ma devono essere qualcosa di chiaro. Se l'importanza in quella relazione è il rispetto di te stesso, beh, allora devi essere coerente con i tuoi valori, non devi tradirli, non devi svalutarli, perché ricordati che se già tradisci e non rispetti i tuoi valori, in qualche modo già non stai rispettando te stesso. E quindi come puoi pretendere che l'altra persona rispetti te stesso? Poi ricordiamoci che stiamo parlando di come noi vogliamo sentirci alla fine di questa discussione, di questa interazione con gli altri. Quindi qua dobbiamo concentrarci proprio sul rapporto che noi vogliamo avere con noi stessi e quindi è il caso, insomma, di essere coerenti e di rispettarci, prima di tutto noi stessi, se vogliamo essere rispettati dall'altro. E qui arriviamo al secondo consiglio che è si assertivo, devi tirare fuori le tue abilità di assertività, di esprimere i tuoi bisogni, di esprimere i tuoi desideri, di comunicarlo all'altro, perché questo è importante per te. Per avere il rispetto di noi stessi, da noi stessi, per avere un buon rapporto con noi stessi, dobbiamo sentire che riusciamo ad esprimere noi stessi, a far arrivare all'altro i nostri bisogni, le nostre opinioni, le nostre richieste. Non assumere un atteggiamento di inferiorità, non porti in modo sicuro, l'assertività è proprio il contrario, non è porsi con aggressività, non è minacciare, non è porsi in modo con superiorità. Però è un insieme di atteggiamenti, di comportamenti che ci mostrano all'altro sicuri. Sono comportamenti, azioni e anche comportamenti verbali, ma sono soprattutto anche comportamenti non verbali. Lo dicevo già nello scorso video, quindi se vuoi mantenere il rispetto di te, quando ti poni all'altro devi porti in maniera sicura, calma, anche nell'atteggiamento non verbale. Quindi anche qui ricordo un bel sorriso, i lineamenti calmi e sicuri, apri le spalle, apri i pugni, non stare in un atteggiamento di chiusura e di difesa. Perché solo così potrai portare avanti il tuo punto di vista mantenendo il rispetto di te. Assolutamente non scusarti di esistere o di avere dei bisogni, questo è molto molto importante. Il terzo consiglio che ti voglio dare, ebbene sì ci torniamo ancora, è si validante. Si validante, prima di tutto con te stesso, quindi si auto validante, quindi valida i tuoi pensieri, le tue emozioni, i tuoi bisogni, i tuoi desideri. Ma nello stesso tempo, se vuoi mantenere il rispetto di te stesso, devi imparare a validare anche quelli dell'altro. Perché se alla fine dell'interazione avrai schiacciato l'altro, avrai umiliato l'altro, avrai giudicato l'altra persona, alla fine con te stesso non ti sentirai troppo bene. Per mantenere il rispetto di se stessi, per mantenere un buon rapporto con se stessi, è molto importante dare valore ai propri bisogni, ma allo stesso tempo imparare a dare valore all'altro, ai suoi bisogni, ai suoi pensieri, alle sue emozioni. È molto importante riconoscere che se anche si hanno opinioni diverse, punti di vista diversi, entrambe le opinioni, entrambi i punti di vista hanno valore e hanno diritto di essere validati. Il quarto consiglio che ti voglio dare è anche questo, molto molto importante, per mantenere il rispetto di noi stessi in una relazione. Ricordiamoci che ci dobbiamo chiedere, alla fine di questa interazione che ho avuto con questa persona, come mi voglio sentire con me stesso, non con l'altra persona, con me stesso. Quindi il quarto consiglio che ti voglio dare è quello di essere autentico e trasparente, quindi di non mentire, di non manipolare, di non schiacciare l'altro, di non usare strategie subdole, furbe, di non fare il doppio gioco. Perché alla fine ti assicuro che anche se ne esci vincitore, con te stesso non mantieni un buon rapporto, non uscirai avendo una grande opinione di te stesso. Perché un conto è utilizzare strategie di efficacia interpersonale, come quelle di cui parliamo nei miei video e sul mio canale. Un altro conto è quello di essere consapevoli che si sta giocando sporco, che si sta manipolando l'altro, che si sta usando l'altro e si stanno, come dire, utilizzando strategie non proprio trasparenti, non autentiche. Questa è un'altra storia. Bene, i miei quattro consigli sono finiti. Ti voglio dire un'ultima cosa molto importante. Ricordiamoci che la cosa più importante in un percorso di crescita personale, di miglioramento di se stessi, ma anche di miglioramento delle relazioni con gli altri, è veramente il punto chiave, quello che noi pensiamo di noi stessi. Perché se già ci consideriamo delle persone subdole, poco chiare, che sfruttano gli altri, che hanno usato dei mezzucci, beh, se lo pensiamo di noi inizieremo a pensarlo anche degli altri. E di conseguenza impareremo anche a non fidarci degli altri. Quindi pensando che noi stessi non siamo autentici e trasparenti con gli altri, penseremo allo stesso degli altri. Quindi non riusciremo mai a instaurare veramente una relazione autentica e di fiducia. E questo a lungo andare non ci fa crescere come persone e non ci fa avere rapporti di qualità e non ci fa stare bene in senso generale. Questo ormai lo sapete, io lo dico sempre, se vogliamo migliorare la nostra qualità di vita, se vogliamo migliorare i nostri rapporti interpersonali, se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi, dobbiamo partire sempre da noi stessi, dalla responsabilità che abbiamo noi in quella relazione, in quell'attività. Dobbiamo pensare, se voglio migliorare questo aspetto della mia vita, io cosa posso fare prima ancora di aspettarmi qualcosa dagli altri o dagli eventi. Quindi io penso veramente che l'idea che abbiamo di noi, rispetto di noi stessi, che ha a che fare anche con la nostra autostima, con il nostro senso di autoefficacia, e con il nostro senso di padronanza, sia veramente, veramente importante. Quindi questi quattro punti ci aiutano veramente a creare le fondamenta positive per poi relazionarci con gli altri. Adesso lascio a voi la parola, voglio veramente sapere cosa ne pensate di questo argomento. Tu come ti senti con te stesso dopo una discussione, dopo un'interazione magari un po' conflittuale, un po' difficile con gli altri? Perché spesso riusciamo che ci sentiamo non molto, che non ci sentiamo molto capaci, non sentiamo di aver avuto il controllo e pensiamo spesso dopo un conflitto, un'interazione che avremmo potuto fare meglio. Ti aspetto nei commenti e ti aspetto il prossimo lunedì con un nuovo video. Ciao!